Video di prova della Homebrew Lift per Sega Master System è un videogioco capace di sfruttare l'audio FM e lo scopo è raccogliere tutte le bandierine ci sono due bandierine per ogni colore e se riusciamo a prenderne due dello stesso colore consecutivamente il punteggio sarà maggiore altrimenti possiamo anche prenderle in ordine sparso però il punteggio sarà minore ci sono nei livelli degli ascensori che però salgono e basta non scendono mai e anche uno o più nemici che cercano di ostacolarci è un videogioco dal concept molto semplice che non sarebbe neanche male se avesse un pochino più di varietà e se i nemici, quei fantasmini viola non cadessero quando l'ascensore arriva alla massima altezza perché mi è capitato di trovarmi sotto l'ascensore mentre il fantasmino era sopra l'ascensore quando l'ascensore è arrivato in alto io immaginavo il fantasmino morirà oppure non lo so andrà da qualche parte e purtroppo il nemico mi è piombato sulla testa una scelta che non ho gradito particolarmente sono arrivato fino al sesto schema poi nel sesto schema perdo la partita vi auguro buona visione a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.